Ieri mercoledì un consiglio bello tosto, quasi 12 ore di consiglio. Cosa ne pensa del lavoro svolto? Ma dunque purtroppo le procedure della federazione sono leggermente differenti da quelle che usualmente si applicano società di capitali o società comunque a più o meno ristretta base azionaria. Noi abbiamo una burocrazia che è rilevante, importante e quindi questi consigli non sono solamente strategici, non sono solamente linee di indirizzo che vengono date a un consigliere delegato il quale poi le attua, ma sono veri e propri consigli di gestione. E quindi tutte queste delibere, dalla più importante alla meno importante, vengono passate al vaglio del consiglio fettale. E di conseguenza il consiglio è necessariamente lungo, un consiglio breve non farebbe a tempo a verificare tutta l'attività amministrativa. Si dibattono problemi importanti e se ne dibattono anche problemi meno importanti dal punto di vista esterno, ma importanti dal punto di vista interno. Quindi il lavoro è stato molto buono, io penso che voi stessi abbiate avuto riferimenti da parte dei consiglieri dopo che sono usciti dalla riunione positivi. Certamente per quanto mi riguarda, quindi per quella che è la gestione amministrativa, devo dire che abbiamo operato in assoluta regolarità e personalmente con buona soddisfazione.